Ed è stato riattivato il reparto di pediatria dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo i lavori di ristrutturazione a pareti rosa, nuovi pavimenti e infissi completamente rinnovati. E' servizio. Pareti rosa come da modello unico di accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, nuovi impianti di illuminazione a LED, sostituzione degli infissi e di parte della pavimentazione. Il reparto di pediatria Bruno Trambusti dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari rinnovato e tornato a ospitare i piccoli pazienti. Sono stati necessari interventi di manutenzione straordinaria nell'ala al quarto piano dell'ospedale, poi lo stop per l'emergenza Covid e dopo gli ultimi lavori. Il reparto ora è adeguato ai più moderni standard di accoglienza ospedaliera con stanze singole, tutte con bagno in camera. La pediatria Trambusti, diretta dalla professoressa Paola Giordano, costituisce un riferimento sul territorio per l'ematologia non oncologica, l'endocrinologia, la gastroenterologia e le patologie della nutrizione. Abbiamo completato il trasferimento dei pazienti e siamo tornati ad abitare il reparto, spiega la professoressa Giordano. Grazie alla disponibilità della direzione strategica sono stati completati tutti gli adeguamenti necessari per poter continuare ad accogliere pazienti con patologie altamente specialistiche, offrendo le migliori cure in spazi adeguati. Il reparto di pediatria universitaria, oltre che per l'assistenza, è anche organizzato per offrire spazi di didattica e ricerca per i giovani medici.